...tempo di molti giorni che ha letto sull'inizione di Padrelli e con i 15esimi e di questo punto di nuovo allora, e con gli alma all'occasione e visto la sostituzione del Natale e del Natale per le feste titulate dei mari e dei spiegatori e di un'altra parte 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 la fesso tutti qui sopra la fesso tutti, mancia l'altra hai visto? c'è una pessa, c'è una 0-10 questa nuova ha vinto 2-1 con Montecchio Urbino è appareggiato ma